Ciao a tutti, sono Beretta Matteo del pasticcione di San Vittorolona e oggi tutte le ricette che faremo le faremo in collaborazione con la pizzeria Piedigrotta di Varese. Dobbiamo partire semplicemente con della farina, del lievito naturale e sale. Questi sono i nostri tre ingredienti, logicamente aggiungendo dell'acqua, ma sono i nostri ingredienti semplicissimi da recuperare e da utilizzare. Iniziamo a impastare il lievito naturale con la farina e l'acqua. Dopo circa un paio di minuti, tre minuti che abbiamo incordato l'impasto, andiamo ad aggiungere il sale. L'impasto sarà pronto quando risulterà bello elastico e da lì possiamo lasciarlo riposare dalle otto ore a temperatura ambiente o fino a ventiquattro ore a temperatura controllata nel frigorifero. Dopodiché staglieremo le nostre palline e lasciamo riposare ancora almeno un paio d'ore. Due o tre ore, dipende da cosa vogliamo fare e come vogliamo farla. Dopodiché ci divertiamo a condirla come più ci piace.